Il cubo d'oro perde i pezzi, il mosaico che si ispira a decorazioni arabesche che ricoprono le quattro facciate della costruzione situata all'interno della mostra d'oltremare lungo il viale delle palme, si sbriciola giorno dopo giorno. Destinato ad attività espositiva da anni la struttura versa nel più assoluto degrado, come si vede dalle immagini. Il cubo oggi è totalmente mangiato dall'umidità, che alimenta il crollo dei componenti decorativi. Fu costruito nel 1938, ribattezzato negli anni 40 Salune dell'Impero, oggi racchiude affreschi di Giovanni Brancaccio che raffigurano le gesta del duce dell'esercito italiano in Africa orientale. Un patrimonio storico che andrebbe preservato e difeso, ma il comune di Napoli e l'ente mostra fanno finta di nulla. Da anni tutta la mostra d'oltremare, una cattedrale nel deserto, nel quartiere di fuorigrotta, frequentata soltanto durante le fiere, attende oggi un'azione di ristrutturazione e di bonifica importante. Le aiuole sono distrutte, gli alberi sono da potare, il padiglione Rodi, caratterizzato da uno stato di fatiscenza, è interdetto all'accesso al pubblico, così come il castello Gondar e la sua piscina. Insomma, l'ennesimo scandalo tutto partenopeo.